Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Minecraft signori Siamo tornati su Minecraft ma con un nuovo inizio, volevo iniziare, volevo nuovi stimoli, nuova avventura, nuove cose La serie di prima era diventata un po' ripetitiva, un po' lenta, troppo vecchio l'ultimo episodio Quindi ho detto ripartiamo dall'inizio, nuovi stimoli, nuova avventura e cerchiamo di fare qualcosa di bello assieme Signori, prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i suggerimenti e per il supporto che è data a questa nuova inizio di stagione, la stagione numero 3 signori Se non sbaglio, se non sbaglio è la stagione numero 3 Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook Dove tramite le informazioni di questi social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live E vi ricordo di seguirvi anche sul sito viola, quelle degli stream, mi trovate anche lì come Maullo941 E signori, vado a salutare i miei abbonati, di cui vi ricordo che in descrizione trovate i link per andarvi a iscrivervi nei loro canali Perché si sono abbonati e quindi hanno avuto la possibilità di essere, diciamo tra virgolette, sponsorizzati O comunque avere il link del loro canale in descrizione Detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con questa nuova avventura Allora signori, qui abbiamo la lista delle nostre mappe che abbiamo fatte Abbiamo la ShippaCraft, la Vanilla stagione 2, la Vanilla stagione 2, la Maullo 1.0, la SkyElement Un sacco di roba signori, ma noi andiamo a creare un nuovo mondo Andiamo a creare un nuovo mondo, lo chiameremo MaulloCraft Così vediamo di non fare errori Motività, sopravvivenza, difficoltà normale, comandi no Pacchetti, dati, regole del gioco, creano un nuovo mondo, via Non perdiamo chiacchiere signori, siamo partiti Nuova avventura, nuovo inizio Cosa succederà, cosa non succederà, dove inizieremo? Allora noi la prima stagione l'abbiamo fatto la casetta sul mare Vi ricordate, era quella specie di bungalow sul mare La seconda stagione abbiamo fatto la casa all'interno della montagna Che è l'ultimo video che vedevate La terza stagione cosa potremmo fare? Non lo so signori, da un lato mi piacerebbe fare qualcosa in mezzo O al mezzo al deserto O in mezzo al deserto O in mezzo al ghiaccio Fare tipo un bungalow Un igloo, non un bungalow Un igloo in mezzo al ghiaccio O eventualmente fare qualcosa No, la sospensionale non mi piace Signori, ora vi lascerò un sondaggio nella community Vediamo intanto dove spawniamo Spawniamo in mezzo al nulla Ottimo Non è che per caso ci sta un bel villaggetto qui vicino No, vero? Non ci sta assolutamente nulla Facciamo un attimo caricare prima che mi sfondo del computer Vai Iniziamo a muoverci Iniziamo a muoverci Signori, il deserto No, no Mi sa che è una colta di sabbia e basta Non è il deserto Non è il deserto che speravo io Non è il deserto che speravo io Io volevo proprio montagne e montagne di deserto Desertiche Però un po' di deserto c'è signori Forse se andiamo in quella direzione Ne becchiamo quella di più Ci sono i cavalli Ma in questo momento dei cavalli non ce ne facciamo nulla Forse in questo momento Però se Quelle sono delle pecore Sì Abbiamo delle pecore, signori Pecore uguale lana Prima cosa da fare senza ombra di dubbio Recuperiamo questo alberello Facciamoci una prima crafting table della serie Questo prima misura sarà un po' così lento Un po' più tranquillo E intanto vi devo farvi vedere un'altra cosa fondamentale, signori Un'altra cosa fondamentale ve la devo fare vedere Ora ve la faccio vedere con calma Fatemi recuperare questo legno Così siamo a posto Ho anche dei semini Ottimo, ottimo Dai così Recuperiamo il legno Recuperiamo i semini Guardate signori La vedete già da lì Vi faccio vedere la mia nuova skin, signori La skin di maullo Con la famosa canottiera Che diciamo sempre Non l'ho potuta fare bianca, signori Perché sennò non si vedeva un tubo Se la facevo bianca Vedeva una gran cagata Quindi l'ho fatta grigia Non ci ho potuto fare le macchie di caffè Però va bene Guardatelo che fresco Il maullo Che vi saluta Ciao ragazzi Va bene, ok Avete la mia bellissima skin Aspettate che faccio No La foto per la copertina La facciamo dopo Allora Io non ricordo bene Un attimino Come si Come si lavora su Minecraft Vediamo di non fare cretinate Allora Chi è che mi sta a spingere? Chi è che mi sta a spingere? Pecorellina Sai che farei una brutta fine Fra poco? Fra poco farai una bruttissima fine Mi dispiace per te Per tua mamma Ma non è Pasqua Ma stai per fare una brutta fine Pecorella Ok Signori Dobbiamo un attimino fare Lo stretto necessario Per andare avanti In questa prima parte di serie Quindi Rapidi Senza troppi patemi Senza troppi pensieri Senza troppe paure Non pensiamoci E facciamo quello che dobbiamo fare O soprattutto Quello che va fatto Allora Recuperiamo la crafting table E questa è una Dopodiché Andiamo a decimare le pecore Uh Recuperiamo questi Pecorelle Voi dovete anche farmi sapere Di che colore dobbiamo farci il letto Signori Di che colore Mamma mia Che cosa triste Madre e figlia E vabbè Non ci posso fare nulla Mi dispiace per te Ma mi serve la lana Nessuna pecore È stata maltrattata In questo video Signori Non vi preoccupate Non vi preoccupate Nessuna pecora È stata maltrattata In questo video E Là c'è un pollo Che quasi quasi Mi piglio pure Dai così È carne Signori Questo pollo Attualmente è carne Ed è quello che ci serve In questo momento All'inizio Per sopravvivere Però io sto pigliando Lana di tutti i colori E questa cosa Non va assolutamente bene Ci sono delle pecore Di ugual colore Non ci sono pecore All'orizzonte Questa cosa Una pecora bianca Dai 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 Se quella pecorella è bianca Per puro caso E per pura fortuna Dovesse darmi due pezzettini Di lana Sarebbe la pecora Più carina del mondo Muori pecorella Quanti pezzi L'hanno mai dato Uno solo Ma mannaggia pecora Oh guarda quante belle pecore Che ci stanno qua Dai così Ciao pecorella Ok signori Abbiamo la carne Abbiamo la lana Per farci il letto Non abbiamo altro Abbiamo la povertà In questo preciso momento Però la vedo del deserto Signori Attenzione La fortuna Il dubbio Se farlo sul ghiaccio O in mezzo al deserto Mi sa che è stato già deciso Perché qui c'è deserto Signori Potremmo farci una bellissima casa Qui in mezzo al deserto Là è tutto Amma mia signori Là è tutto deserto Le tartarughe Ci stanno pure Signori No no Deciso Ci faremo la casa Su quell'isolotto Deciso 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 Recuperiamo pure quelle canne da zucchero Che ci possono servire Recuperiamo questi cactus Che dice A che ti servono adesso i cactus No Non ci devi salire di sopra Scemo Devi pigliarlo Recuperiamo questo cactus Recuperiamo quell'altro cactus Recuperiamo anche Dai dai quelle canne da zucchero Noi non abbiamo legno Non abbiamo nulla Allora Stiamo calmi Stiamo assolutamente calmi Recupera tutto Perfetto Abbiamo già l'inventario pieno No quasi Allora Esplodiamo un attimino Quest'isola di qua signori Le tartarughe ce le abbiamo L'oceano in mezzo No signori Ci stanno pure l'igloo No Non ci posso credere Non ci credo Non ci credo signori Allora Vi lascio Vi lascerò un sondaggio Signori Qui si scende Allora Qui ci moriamo malissimo Qui ci moriamo Decisamente male Cortesemente Grazie Abbiamo recuperato anche della sabbia E Allora Questo è in isolato Qui è tutto deserto Abbiamo Allora signori Abbiamo il deserto di là E il ghiaccio di qua Ditemi voi signori Lasciatemi voi nei commenti Andiamo a vedere pure questa zona di qua Col ghiaccio Lasciatemi voi nei commenti Signori Se dobbiamo costruire qualcosa Qui In mezzo al ghiaccio E poi eventualmente Fare un porticello E spostarci con la barca Per andare sia dagli animali Che dal Che a prendere alberi Perché dico qua alberi Non ne crescono nemmeno Se Ce li portiamo Forse Forse se mettiamo un blocco di terra Poi sai che spunto un albero Non ve lo so dire Se nel ghiaccio può spuntare Qualcosa Questo non ve lo so dire E come si sale di sopra Mamma mia come si scivola Si scivola tantissimo No 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 Vabbè Nei commenti fatemi sapere Signori Ovviamente nel deserto Sarebbe più facile Molto Molto più semplice Costruire qualcosa sul deserto E potrebbe venire pure qualcosa Di grazioso Di esotico Nel ghiaccio Non ve lo so dire Nel ghiaccio si scivola tanto E rischiamo di farci male Allora Dovremmo andare a cercare Un attimino Dov'era la terra Di là Torniamo verso la terra Torniamo verso la terra E vediamo di recuperare Qualche alberello Qualche alberello Qualche altro Seme Così possiamo anche Possiamo iniziare A fare una farm di grano C'è qualcosa di grave qui No ok Il cibo ce l'abbiamo Allora Questo primo episodio Signori Finirà così Se tutto va bene Se tutto va bene Io vorrei fare Un episodio a settimana Un episodio a settimana Così la serie va avanti Potremmo farlo pure qua Signori Una bella casetta qui Se io levo Tutta questa sabbia Scusate Mi aspetto un attimo Tu mettiti lì Dammi una pava Che durerà da qua A Santo Stefano Da Natale A Santo Stefano Ovviamente La distruggeremo subito Ok Leva Leva tutto Leva tutto Ho detto Deleva Non c'è Devi saltare Sopra Ok Calma E sangue Freddo Se noi Leviamo Questo accumulo Così Perfetto Abbiamo Un piccolissimo Isolotto Signori Che potremmo Che potremmo Trasformare Nella nostra base Per la nostra isola Certo Va un attimino Modificato Però stiamo vicino A tutti Potremmo fare un ponte Che ci raggiunge là E raggiungiamo la zona verde Un ponte Qua già un mezzo ponticello C'è Che ci porta in quell'altra Zona lì Desertica Potremmo farlo così Potremmo farlo così Va bene signori Allora Io per questo video Mi fermo qui Non abbiamo fatto assolutamente niente Lo so perfettamente Ma serve per iniziare Con spada in mano Io vi saluto Signori Aspettate che faccio anche lo screen Così ho la copertina Del video Detto questo signori Io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per i like E per i commenti Per i suggerimenti Vi ricordo di lasciarmi I commenti E suggerimenti Su quello che fare Ditemi se vi piace L'idea di fare La nostra casa Su questo piccolo isolotto Di sabbia E poi allargarci Oppure andare sul ghiaccio E vedere come finisce Perché sul ghiaccio Non ci ho mai costruito signori Avrei preferito la neve E detto questo Che altro dirvi Grazie per tutto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao